Mentre saluto Green Apple from London, salutiamo la nena anche, e vediamo cos'è questa strategia del gaslighting che è una delle strategie di manipolazioni nefaste, pervasive, diciamo, distruttive, che il narcisista utilizza, non soltanto i narcisisti che poi non sapevo mai se sono certificati narcisisti o meno perché, come dire, è sempre, come dire, difficile certificare un narcisista ovviamente, ma non è importante questo, la cosa importante è, diciamo, che chiunque mette in atto questa strategia dobbiamo prevenirlo, dobbiamo, diciamo, ribaltare la frittata, ribaltare la crescidra, perché il gaslighting è, come dire, la, potremmo dire, la madre di tutte le tecniche manipolative, perché proprio mira a destrutturare la persona, crea un ambiente falso, cioè il gaslighting ti fa entrare in un mondo, ma il narcisista va a creare questo mondo falso, ma anche i manipolatori, ma semplicemente chiunque, diciamo, cerchi di squalificarti, noi non dobbiamo farci squalificare da nessuno, come dire, ma a parte il fatto che ce ne dobbiamo fottere assolutamente del giudizio degli altri, un saluto a Roxy, ce ne dobbiamo assolutamente fregare del giudizio degli altri, perché, come dico sempre io, il giudizio degli altri è sterco del diavolo, dobbiamo prenderlo e buttarlo direttamente nel cestino, non è assolutamente utile. Le persone, ovviamente, spesso, invece, credono al giudizio degli altri. Quando uno magari ti giudica male, salutiamo mi, quando uno ti giudica male, quando uno magari dice che stai sbagliando, stai facendo una cosa sbagliata, oppure hai fatto una cosa di cui tu neanche ti rendi conto fondamentalmente, questo è, come dire, molte persone vanno in crisi, vanno in crisi per questo, perché purtroppo il narcisista acquisisce il prima potenziale, il narcisista o il manipolatore che per esso acquisisce il prima potenziale, perché se non avesse potenziale, insomma, se a me mi giudica, cioè a uno ti giudica il figlio del portiere, di cui non te ne frega una beata minchia, è ovvio che te ne frega, però il problema è che questo giudizio negativo è espresso da persone che hanno il primo acquisito potenziale su di te, tutto sta lì, ma noi dobbiamo togliere il potenziale, perché una delle cose fondamentali, delle capacità fondamentali che bisogna acquisire, è che io decido di chi innamorarmi, io nel senso la mia sfera logica, perché poi io non esiste, no? Cioè, dice, ma chi è sto io? E l'io non esiste, noi siamo in interdipendenza tra le nostre parti interne, siamo un mix di cose, no? Non c'è un io vero e proprio. Oh, un saluto alla nostra Stella Marina, bentornata Stella, grande Stella Marina. Non esiste un io, diciamo, non esiste di fatto un io, esiste un'interdipendenza di cose, ma comunque noi di fatto quando siamo oggetto, diciamo, di giudizio da parte degli altri, spesso entriamo in crisi, no? Mi avremmo giudicato male, mi avrò detto questo, mi avrò detto quello, ma affottitene. Tra l'altro, dicevo, noi possiamo decidere attraverso la nostra sfera logica di chi innamorarci e di chi disinnamorarci, perché apparentemente, certo, l'innamoramento è un fatto irrazionale, ma se noi lo razionalizziamo e capiamo quali sono le leggi e le regole che governano l'innamoramento, possiamo decidere di togliere l'amore che abbiamo dato, glielo togliamo proprio, perché dentro di noi c'è l'istinto di sopravvivenza, c'è una forza molto forte, che è, come dire, un istinto di sopravvivenza, che è, per certi versi, quella forza che Freud aveva chiamato Thanatos, aveva chiamata energia aggressività Thanatos, perché c'era una guerra e tutto, però noi possiamo utilizzare questa forza, diciamo, per sganciarci dalle persone. Come si manifesta questa forza? Beh, si manifesta attraverso l'orgoglio, ma si può manifestare anche attraverso la considerazione di noi stessi. Noi dobbiamo sempre giudicarci bene, perché nel momento in cui iniziamo a giudicarci male, cioè noi siamo perfetti, così come siamo, e ovviamente ci possiamo migliorare, nel senso che siamo intrinsecamente perfetti, no? Come viene detto anche nel buddismo, dentro di noi c'è il Buddha, siamo, abbiamo la possibilità di raggiungere questo stato interiore, questo stato mentale della, tra virgolette, buddità, dell'illuminazione, però possiamo essermi magari deviati. Detto in altri termini, io posso migliorare, ho tanto da migliorare, come tutte le persone, ma sono perfetto, non è che mi vai a squalificare, perché chi mi squalifica fuori dai coglioni, fondamentalmente, e dice, ma io lo amo, io lo amo, non importa che tu lo ami, perché se tu inizi a dare forza a persone che non se lo meritano, inizi a dare l'energia e te lo prenderai in quel posto. E tra l'altro il gaslighting, se tu credi a quello che dice questa persona, creerà una sensazione di disagio, no? Ti sembrerà veramente di impazzire, perché entri in una realtà che tu non riconosci più, e quindi se noi entriamo nel gioco è come entrare nella matrix, dobbiamo uscire fuori dalla matrix. C'è, non dobbiamo, dobbiamo prendere la pastiglia rossa, non la pastiglia blu, perché il gaslighting comunque è una forma forte di manipolazione, no? Perché le persone che ti fanno gaslighting ti squalificano, no? Questo termine, tra l'altro, è interessante perché è nato da un lavoro, da un cinema, che in realtà era un lavoro teatrale, inizialmente si chiamava gaslight, luce e gas, diciamo, perché, perché, diciamo, e la trama parla di un marito che cerca, un marito che cerca di far impazzire la moglie, diciamo, manipolando, appunto, elementi dell'ambiente domestico, accendendo il gas, spegnendo la luce o viceversa, e quindi il titolo nasce proprio da questo fatto, no? Che il marito manipola luce e gas, l'accende, la spegne, lascia il gas aperto, in modo tale che la moglie, in modo tale che la moglie, come dire, inizia a pensare di essere, di essere, diciamo, fuori di testa, fondamentalmente, no? Perché lei credeva di aver chiuso il gas e se lo trova aperto, ma perché in realtà è il marito che manipola, appunto, il gas, un saluto alma, ma la apre, lo chiude, eccetera. E questo, vabbè, nel film è per una questione ereditaria, voleva fondamentalmente far passare la moglie per folle, quindi lui puoi accedere, diciamo, alla sua, ai suoi soldi, fondamentalmente. Comunque questa, questa tecnica, diciamo, viene utilizzata proprio anche dai manipolatori, no? Che fanno una sorta di lavaggio del cervello, no? Ed è, diciamo, molto sottile, perché iniziano gradualmente, quindi non è che da tutto assieme, no? Per cui, una cosa che ti suggerisco di fare, quando hai a che fare con persone di questo genere? O registri, o scrivi, in modo tale che tu, come dire, come dai un supporto a memoria, no? Facci caso, perché le persone, ad esempio, che ti dicono, eh, vabbè, ma io te l'ho detto, io ho fatto questo, io, tu non hai detto quello, tu hai fatto questo, sono tutte palle che ti raccontano per, per farti passare per passo. Ah, questa cosa qua non me l'hai mai detta, te la sarai immaginata. Ah, poi, tra l'altro, diciamo, ti squalificano anche, no? Davanti agli altri, no? Ad esempio, ecco, un saluto a Vale, questa dice sempre queste cose, no? Quindi ti fanno passare per folle. Ovviamente il problema qual è? Che se tu credi a questa persona, non credi a te stesso, fondamentalmente. Spesso noi, anche con i nostri genitori, no? Da bambini, siamo stati in qualche modo manipolati, magari a fin di bene, ovviamente, ma sempre di manipolazione si tratta, per cui o giustificavamo noi stessi o giustificavamo i nostri genitori. Quindi, se non giustifichi te stesso, devi giustificare gli altri. Quando giustifichi gli altri, tu sei sbagliato. Ma i manipolatori utilizzano proprio anche il fatto di aver acquisito prima potenziale, no? Perché alcuni narcisisti, poi, tutto sommato, possono essere anche persone affascinanti, no? Oppure presentarsi anche sotto le... e questa è un'altra cosa interessante, presentire, soprattutto i covert, presentarsi sotto le mentite spoglie del bravo ragazzo e della brava ragazza. La gatta morta, per fare un esempio, che inizialmente si presenta con un profilo di basso livello, no? E poi ti fotte il marito, fondamentalmente. Quindi ci sono queste tipologie. E ovviamente quello che fa è una distorsione, diciamo, completa della realtà. Utilizzando fondamentalmente le tre modalità di distorsione della PNL, che sono la cancellazione di cose, cioè ti dice delle frasi, ma omette di dirti delle cose, no? Per cui tu non hai più i riferimenti. Questa è una delle forme di menzogna, no? Chi segue con me il corso sulla menzogna, sui microsegnali, sul canale Massimo Terramasco, lo sa, no? Ci sono, tra le forme di menzogna c'è... Oh, un saluto anche a Stefano Gatto. Ciao Stefano. Tra le forme di menzogna c'è anche la dissimulazione, no? Che è quella strategia in cui io racconto una narrativa, ma ometto delle cose, no? Per dire, ti racconto per file per segno quello che ho fatto la sera, tranne quella, diciamo, sono andato a giocare al calcetto con gli amici, poi siamo andati in pizzeria, poi dopo siamo andati a bere, bla bla bla, ti racconto tutta sta storia. Peccato che trascuro, diciamo, di dirti che tra la pizzeria e la serata sono passato mezz'ora al parcheggio del cimitero con l'amante, per dire, no? Quindi in realtà questa è anche più difficile da riconoscere, no? Come tipo di menzogna. In realtà si può riconoscere, chi segue il corso ha visto più o meno i segnali, no? Tra i segnali, ad esempio, c'è il fatto della confusione, di non mancare alcuni punti, insomma, ci sono un po' di modi per capirlo. Però di fatto, sta di fatto che comunque il gaslighter inizia col cancellare, no? Questa è la cancellazione, una delle tecniche della pianela e cancello delle parti di realtà. Un'altra cosa è generalizzo, no? Generalizzare. Tu hai sbagliato, che ne so, una cosa, sei un cretino, cioè per dire, no? Ti sei... è perché questa è una generalizzazione, no? Prendo... tra l'altro generalizzo le cose negative, no? Fa un piccolo errore e sei un deficiente per dire, ecco, sei il solito deficiente, fai questo, fai quello, no? Perché hai sbagliato quello, ma in realtà, come dire, tu... tutti noi possiamo fare un errore di valutazione di qualunque cosa e questa della generalizzazione è un qualcosa che viene spesso utilizzato. E poi la deformazione della realtà, no? La deformazione vuol dire che plasmo la realtà a modo mio. Ad esempio, ti dico di averti detto una cosa che in realtà non ti ho mai detto, o te l'ho detta solo parzialmente, o che ne so, ecco, questo... e quindi bisogna fare attenzione, no? Perché in queste distorsioni comunicative la persona, diciamo, che è sottoposta al gaslighting resta disorientata, resta confusa, perché il primo, diciamo, il primo, possiamo dire, effetto che ha il gaslighting è proprio quello di confonderti. Quindi tu arrivi a mettere in dubbio te stesso, arrivi a mettere in dubbio la tua lucidità mentale. È ovvio che se tu non ti consideri lucido mentalmente, come dire, se pensi di essere un cretino, lascerai decidere gli altri, lascerai, come dire, tu non guiderai più i tuoi comportamenti, ma lascerai che siano altri, no? E poi le persone possono anche, diciamo, perdere proprio l'identità, no? Non sanno più chi sono fondamentalmente, perché è ovvio che se tu non sei più sicuro di quello che dici, di quello che fai, di quello che pensi. Ecco, quindi che bisogna fare attenzione, fare attenzione a quelle persone che ci vogliono squalificare, anche perché il gaslighting può intacca pesantemente la nostra autostima fondamentalmente, no? E influenza anche la nostra vita sociale, no? Poi pianificato o messo in atto inconsciamente poco cambia, cioè nel senso che se una persona me lo fa, che sia che lo faccia consapevolmente. Poi non c'è differenza di fatto. Ecco, noi abbiamo quest'idea, no? Che cosa vuol dire fatto consapevolmente o fatto inconsapevolmente? Non cambia assolutamente niente. Intanto viene fatto. Poi non è che se lo fa uno lo fa inconsapevolmente e lo fa suo nonno al posto suo. Lo fa una parte, come dire, anch'io mi quando... adesso la cravatta è un po' che non la metto, ma una volta mettevo spesso la cravatta e il nodo della cravatta me lo faceva inconsapevolmente, ma non era un altro che me lo faceva. Cioè lo facevo senza stare a pensare perché era un gesto automatico e lo facevo automaticamente, no? Ma non è che... un saluto a Gabriella. Non è che se io lo faccio inconsapevolmente è un altro che lo fa. E sono sempre io, no? E quindi noi, come dicevo prima, siamo un mix di cose. La nostra coscienza... ci sono un sacco di cose che facciamo inconsapevolmente eppure le facciamo, no? Non cambia assolutamente niente. Io devo, quando interagisco con una persona, se questa mi mette in dubbio, se questa cerca di prendere delle cose, cerca di dirmi delle cose piuttosto che altre, devo mandarla a fanculo subito perché dobbiamo istantivamente e istantaneamente mettere subito un limite. Altrimenti non ne usciamo più, non ne veniamo più fuori. Purtroppo è così. Intanto iscrivetevi al nuovo canale che, tra l'altro, uscirà un video sicuramente interessante sul viaggio astrale di cui posto il link adesso al canale Cammino Iniziatico, che non si fosse ancora iscritto. Intanto, se vi va, mettete un like al video e questo non vi costa assolutamente nulla e dà un segnale a proposito di algoritmi all'algoritmo di YouTube di far girare il video. Quindi spolliciate, cliccate sul tastino col pollice in su, mettete un like perché vi date una mano a far girare il video perché più il video gira, meglio è. E questo non vi costa assolutamente nulla. Chi invece poi volesse investire un euro sul canale può abbonarsi al canale, va nella home page, tastina abbona, ti vicino al tastino iscriviti e si abbona. Chi vuole fare una piccola donazione basta che va sul dollarino e fa una piccola donazione oppure che può andare sotto il video e cliccare sul tastino super grazie. Però almeno il like che è gratuito, quello mettetelo, perché, come dire, dando che si riceve, diceva San Francesco. Ecco quindi che questi effetti diciamo sono come uno schiaffo, no? Uno schiaffo inconsapevole o consapevole è lo schiaffo me lo becco lo stesso. Quindi dobbiamo evitare di prenderci l'ostacolo. Anche perché altrimenti entriamo veramente in crisi di identità, cioè non sappiamo più chi siamo, no? Se crediamo a quello. Quindi in via di principio quando qualcuno ci fa una critica mandiamola a cagare senza saperne leggere né scrivere, no? E tanto ti manda a fanculo. Poi eventualmente ne discutiamo, diciamo, no? Quindi prendetelo come, come diciamo, come modus operandi, no? Quando qualcuno ti dice ma tu hai detto questo, hai fatto quello, non è vero, hai detto quello, voi iniziate a mandarla a fanculo, che questo fa sempre bene all'autostima, no? Prima istanza l'ho mandato a fanculo. Poi magari riflettete, ma forse l'avevo detto, forse non l'avevo detto, ma come prima cosa ha mandato a fanculo che non, come dire, un vaffanculo è sempre, diciamo, è sempre terapeutico, no? Per non saperne leggere né scrivere iniziate a mandare a fanculo. Poi dopo uno può valutare o meno come sono le cose, ma il vaffanculo iniziale, il vaffanculo dei, diciamo, bisogna sempre attuarlo. È ovvio che se uno ti dice come devi comportarti o come non devi comportarti, cosa devi fare o cosa non devi fare, beh, qua ci sono due soluzioni. Una divertente, se uno ti dice quello che devi fare, tu dici sì sì certo, oh, grazie, oh, grazie, 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 e poi fai come cazzo vuoi, diciamo così, che lo prendi per il culo. Questa è divertente, no? Perché, come dire, la risposta presa per il culo, anche questa funziona. Ti dico di sì e poi faccio esattamente, non è detto che non lo faccia quella cosa lì, però faccio esattamente come cazzo voglio, quello che tu mi dici, mentre da un'orecchio mi esce dall'altro. Oppure, oppure, prova a sondare, no? Faccio qualche domanda, ma scusa, ma se facessi il contrario cosa succederebbe? Ecco, mettetelo un po' in crisi, no, la persona. Tanto poi voi, il presupposto di fondo è che farete come cazzo volete. Però potete giocare un po', no? Utilizzando quello che viene chiamato il metamodello, no? Il metamodello è una tecnica di PNL, no? Che anche qua, la spiegavo durante il corso di PNL, però è molto efficiente, no? Il metamodello, che è praticamente un modello di precisione, no? Se uno ti dice, ma dovresti fare così, ma perché? Se facessi il contrario cosa succederebbe? Ma guarda, ma perché secondo te dovrei fare proprio così e non cosà? Perché secondo me anche cosà può essere importante. Ecco, iniziate a far domande ai buto, no? In cui lo cercate di metterlo in un cul de sac, diciamo così. Questa è anche... Vedrete che se questa persona non ha delle basi, non ha delle basi buone, diciamo, si tirerà via. Beh, è vero, lo dicevo prima, noi spesso siamo abituati a essere manipolati, perché viviamo in una società manipolatrice, siamo stati manipolati fin da piccoli, però, come dire, c'è sempre una prima volta, no? C'è sempre una prima volta, quindi anche se siamo stati manipolati possiamo uscire fuori dalla manipolazione, no? Nei momenti in cui... Infatti per ribaltare la clessidra bisogna rendersene conto. Per ribaltare la clessidra bisogna sempre rendersene conto. Perché è ovvio che se... Ecco, questo sì che noi dobbiamo portarlo a livello di consapevolezza. Perché se uno cerca di manipolarmi e io non me ne rendo neanche conto, è come dire, te lo trovi, te lo mette dietro, Rocco si freddi, tu non ti rendi conto di tutto prima e poi però il dolore lo senti. Non è che quando te l'ha messo Rocco, diciamo, non senti il dolore. Non è il dolore lo senti. Quindi, come dire, è meglio individuare i segnali prima, che si abbassi i pantaloni, che ti mette girato dietro. Insomma, se ti rendi conto di tutto questo puoi evitare la fase finale, diciamo così, che è quella più dolorosa, insomma. Mentre invece se tu non ti rendi conto di quello che succede e poi arrivi che ce n'hai 25 centimetri e non sai neanche com'è successo, però il male lo senti. Ecco, quindi che invece è importante, a meno che non dici, meno male che c'era quella barzelletta di quello che diceva, meno male che me l'hai infilato lì dietro perché se me l'avesse dato in testa mi ammazzava. Uno può vedere sempre gli aspetti positivi della cosa. E questa è una barzelletta però che non c'entra. Comunque, dobbiamo razionalizzare quello che ci viene detto, no? Quindi questo è un punto fondamentale, no? Poi se uno si rende conto che ha sbagliato qualcosa può tranquillamente chiedere scusa. Nessuno è per... ma dobbiamo sentirci in colpo. Noi abbiamo diritto di sbagliare, abbiamo diritto di dire delle cose che pensiamo. Come dire, tanto guardate che le persone che veramente ti vogliono valorizzare non ti criticheranno mai negativamente. Cercheranno sempre un qualcosa di positivo. Già, anche se tu hai sbagliato e uno ti squalifica. Non tanto perché... Allora, un contesto uno ti dice, guarda, secondo me hai fatto questa cosa, boh, potrebbe essere quell'altra. Ma chi ti dice se è un cretino che ha fatto sta cosa qua? Va a confondere me stesso con il mio comportamento, no? E qui noi non siamo il nostro comportamento. Noi siamo noi e il comportamento è un qualcosa che uno può cambiare, può modificare, insomma. Quindi già di fatto le persone che tengono a squalificare te per quello che fai sono, come dire, personaggi negativi, nefasti, da levarti dai maroni totalmente. Come dire, questo lo dico sempre, però in realtà è vero. Una persona vale un miliardesimo. Io non dico neanche 1,8 miliardi. Le persone di fatto contano 1 su 1 miliardo, perché diciamo che sono buono e ho detto che anche se siamo 8 miliardi, diciamo, tolti vecchi, bambini, eccetera, supponiamo che ci siano un miliardo di persone che possono andare bene per noi su 8 miliardi sul pianeta, ce ne sarà sicuramente un miliardo che potenzialmente può andare bene. Quindi una persona ha potere di un miliardesimo. Quindi un miliardesimo è 10 alla meno 9, perché un miliardo è 1 con 9 zeri dietro. E quindi che cazzo me ne frega di quello che dice praticamente il parere o il valore di quella persona è 1 su un miliardo. Per cui 1 su un miliardo è tendente a 0 fondamentalmente, no? È asintoticamente tendente a 0. Quindi che cavolo me ne frega? Quindi invece quello che dico io di me stesso, quello vale 1 su 1, vale il 100%, perché, come dire, io, almeno per me, sono unico. Poi gli altri, vabbè che nel buddismo dicono che siamo tutti diciamo interdipendenti. Questo è anche vero. Ma sono in interdipendenza con almeno un miliardo di persone. Quindi quella lì in particolare, che cazzo me ne frega di quello che pensi, quello che vuole. Ovviamente il vero problema è che noi non dobbiamo innamorarci di persone che ci squalificano. Cioè se una persona ci squalifica, fuori dai coglioni, è una buona motivazione per elevarci a dei coglioni. Ma è come dire, perché uno può dirmi, guarda, io ero al tuo posto, avevi fatto questo, avevi fatto quello, allora può darmi alcun consiglio, no? Ma uno che ti dice, sei un cretino, sei un deficiente, ti sarai immaginato qua, sei fuori di testa. Io sono fuori di testa e tu vai fuori dai coglioni. Perché non, come dire, non me ne faccio niente, no? Di una situazione del genere. È ovvio che un bambino piccolo nei confronti dei genitori purtroppo non può farlo. Ah, nel senso in cui cantava Alex Britti, uno, ah, non nel senso, no, nel senso contrario, non uno su un milione, un miliardesimo. Cioè qual è il potere che deve avere una persona ai miei confronti? Un miliardesimo. Quindi zero, 10 alla meno, tu vali per me 10 alla meno 9. E cosa fa 10 alla meno 9? È tendente a zero, diciamo, è un poco, insomma, non è tanto. Quindi il valore che tu hai è un miliardesimo. Ma potete anche dirvi, guarda, io sono buono, perché sennò sarebbe quasi 10 alla meno 10, perché se considerassimo gli 8 miliardi, però diciamo che di questi 8 miliardi poi ci saranno vecchi, anziani, bambini, eccetera, quindi io sono buono e ne considero un decimo, quindi facciamo circa un miliardo di persone, quindi il potere che può avere una persona su di me è di un miliardesimo. Un miliardesimo è veramente, è veramente poco, no? Un conte, se uno ti dice, guarda che secondo me potevi fare questo, potevi fare quello, quello ci sta, no? Anzi, può essere un suggerimento, no? Io questa cosa qua l'avrei fatto in modo diverso, ma se uno ti squalifica, ti dice sei un cretino, sei un deficiente, non conti niente, sei solito deficiente, anziché coinvolgerci perché c'è qualcuno oppure che si coinvolge quando gli viene dato il deficiente, dobbiamo esattamente levarci dalle palle fondamentalmente. L'unico modo è levarci dalle palle, non credere che quello che ci dice sia il Vangelo, anzi, non devi poi neanche assolutamente sentirti in colpa, no? Perché un altro potere che ha il narcisista o chi per esso è il fatto che fa leva sul fatto che le persone si sentano in colpa. Tra l'altro la parola senza di colpa è una parola occidentale, no? Perché ad esempio in Oriente molte lingue orientali neanche hanno la parola senza di colpa. Nella lingua tibetana, ad esempio, non so, nelle altre lingue, non c'è neanche la parola senso di colpa. Esatto, il Sette di Bassone fuori dai Maroni. Perché un conto, io, perché senso di colpa? Senso di colpa è una grande puttanata. Purtroppo noi viviamo in una cultura cristiana, no? Nulla contro il cristianesimo, ognuno crede in quello che vuole, ovviamente, ma la cultura cristiana è basata sul senso di colpa. Eh, purtroppo quello sì, perché noi siamo nati con sto cavolo di peccato originale che poi è un'invenzione, se voi andate a studiare il peccato originale, è un'invenzione di Paolo di Tarso, perché nella Bibbia pare che non ci sia traccia di peccato originale, almeno dagli studi del mio amico Mauro Biglino, però sembra proprio che non ci sia traccia. Il peccato originale se l'ha inventato Paolo di Tarso, no? Perché molte delle cose del cristianesimo in realtà sono un'invenzione, no? Non di Gesù, che non c'entra in ammazza col cristianesimo, ma di Paolo di Tarso, San Paolo, no? Che prima era un persecutore di cristiani, tanto per dirne una, e poi ha avuto, non si sa come, questa folgorazione, dicono cadendo da cavallo sulla via di Damasco, non sappiamo, però è diventato, ha creato, diciamo, questa cosa qua. Che tra l'altro poi, diciamo, anche lì bisogna vedere insomma quali sono, fossero state le reali motivazioni, probabilmente più che motivazioni spirituali erano motivazioni, come dire, mondane, però questo bisogna rivederlo. Comunque al di là di questo ci ha inserito in una cultura del senso di colpa, dove già tu nasci col senso di colpa, no? Il senso di colpa, ad esempio, si manifesta, ad esempio, ci sono persone che vivono la cosiddetta sindrome di Stoccolma, non che Stoccolma nel senso che sto incinta, ma che Stoccolma è quella, perché nel, mi sembra, negli anni settanta delle donne si erano innamorate di uno che aveva fatto una rapina da qualche parte, l'aveva presa in ostaggio, ed erano state tanti in ostaggio con questo rapinatore, che era appunto il loro, tra virgolette, carceriere, però loro poi si sono anche innamorati di questo, lo hanno difeso successivamente, quando poi si è reso, ma da lì è nata questa idea della sindrome di Stoccolma, no? dell'innamorarsi del carnefice. Quindi non dobbiamo neanche sviluppare la nostra sindrome di Stoccolma. Se uno ci tratta male, affanculo, oh, un saluto a Sericcia, affanculo e basta. Intanto che vedo Sericcia, iscrivetevi al nuovo canale, chi non l'avesse ancora fatto, Cammino Iniziatico, perché anche nel Cammino Iniziatico parleremo di cose che, secondo me, possono essere utili, possono essere interessanti, quindi iscrivetevi. Ho postato il link e mettete un like, ci sono solo 21 like. Se mettete un like, un più, un like che non vi costa assolutamente nulla, che non vi costa assolutamente nulla, potete dare un segnale all'algoritmo di YouTube, perché l'algoritmo di YouTube si basa anche sui like, non soltanto ovviamente sui like, ma si basa anche sui like, per proporre il video, diciamo, perché questi algoritmi sono ormai basati sull'intelligenza artificiale, vanno a proporre il video, diciamo, anche sulla base di quanto è piaciuto alle persone che l'hanno vista, che si esprimono attraverso il like. Non è l'unico parametro, ce ne sono tanti, ovviamente. C'è lo watch time o time watch, non so adesso se c'è ancora Green Apple, che è l'inglese, chiaro clicca watch time, no? Non time watch, watch time, tempo di visualizzazione, quello è un altro parametro, però ce ne sono tanti, poi insomma. E quindi mettete un like, ne vedo solo 21, è semplice, non costa niente, non vi mangia niente nessuno, basta cliccare sul pollice in su e mettete il like. E poi chi volesse fare una donazione, invece clicca sul dollarino, oppure sul, diciamo, sul, va sotto il video e clicca sul super grazie. Chi volesse fare un abbonamento, usufruendo dei vantaggi dell'abbonamento, basta che vai in un page e clicca sul tastino abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti. Ecco quindi che, mentre voi mettete like, tenete presente che il gaslighter, in questo caso che sia narcisista, che non sia narcisista, ha, diciamo, watch time, ok? Ha proprio la finalità di, ha proprio la finalità di renderti insicuro, renderti insicura, perché è ovvio che è molto più manipolabile, no? Una persona insicura di se stessa, che una persona sicura. Se io sono sicuro di me stesso, è, come dire, sono molto meno manipolabile. Quindi questa tipologia di persone va proprio a, diciamo, a raccontare delle menzogne, no? Tra l'altro le menzogne si possono anche riconoscere, ci sono tutta una serie di segnali che ci possono far capire che una persona ci sta mentendo, questo lo spiego nel corso sul canale Massimo Terramasco, perché capire se una persona ci conta delle cucche, un saluto a Stella Marina, benvenuto, grazie Stella Marina della tua presenza. Dopo tanto tempo è un, un, diciamo, una delle cose che noi dobbiamo fare e non essere vittime, soprattutto prendere decisioni impulsivamente, no? Non dobbiamo prendere decisioni impulsivamente, la fretta è cattiva consigliera. Meditiamo bene, chiediamo eventualmente a persone di cui, diciamo, di cui ci fidiamo, perché il narcisista o il manipolatore in sé ti spinge a fare certe cose, no? E quindi se noi entriamo in una realtà deformata, una realtà che non riusciamo a capire, ovviamente non ci renderemo conto, no? Quindi che possiamo chiedere anche a persone che invece di cui ci fidiamo, raccontiamo anche, come si dice, no? Chiedo per un amico, no? Comunque attenzione, attenzione a quelli che ti squalificano, a quelli che ti giudicano e io personalmente, per non saperne leggere né scrivere, un bel vaffa iniziale e poi dopo se ne discute, no? Prima però almeno mettiamo subito un paletto e il paletto poi lo potete anche ficcare da qualche parte se questa persona continua a rompere i maroni, no? E' ovvio che il gaslighter ti vuole, di fatto ti prende in giro, ti vuole minimizza, diciamo, no? Le tue cose, i tuoi bisogni, le tue esigenze e massimizza le sue, perché l'obiettivo comunque è quello di controllare la tua vita, di manipolarti, di indurte a fare delle cose che di fatto tu non vorresti fare. Beh, a disintossicarsi non so quanto tempo ci vuole, non lo so. Può essere anche, come dire, i tempi secondo me è tutto relativo, no? Nel senso che tornando a Paolo di Tarso, quello che era un persecutore di cristiani, gli è bastata una caduta da cavallo, è diventato, ha cambiato completamente registro, io penso che il tempo può essere anche istantaneo, dipende, non lo so, tutto è possibile, però la cosa fondamentale è che nel momento in cui mi rendo conto che una persona mi piglia per il culo e deve scattare il mio orgoglio, deve scattare la mia dignità, piuttosto che farmi prendere per il culo a qualcuno, lo allontano, perlomeno lo allontano, non dico che lo piglio per il culo io, ma perlomeno lo allontano. Uno strumento valido comunque, ad esempio, è il metamodello, no? Fare domande, ma secondo te? Ma se facessi diversamente? Ma tu fai sempre così? Ma sei sicuro? Insomma, cercate, e poi, tra l'altro alla fine, inutile che state a portarvi dietro a situazioni, diciamo, situazioni di questo genere. Beh, se ti manipolano i padri, questo genere che sono i padri dei tuoi figli, beh, non può essere istantaneo sui figli, ma su di te sì, cioè è ovvio che è un bambino, purtroppo fa parte dell'educazione, no? I bambini piccoli, quello che gli dicono i genitori, lo prendono per buono, anche se sono emerite puttanate, lo pigliano per buono. Si spera che poi ci siano degli educatori, successivamente i maestri, le maestre, insomma, dell'asilo, della scuola che valorizzino, però purtroppo questo è un dato di fatto, no? Se tuo padre gli dice, sei un cretino, è come dire, è ovvio che se sei un bambino piccolo lo accetti per, perché questo fa parte del processo educativo, no? Lì, della sfiga della vita, che ovviamente diventa più difficile, però poi uno diventa adulto e quando è adulto, se uno mi dice sei un cretino, gli dico, un cretino, dillo a te, tua sorella, vattene a fare il culo, a lui dice grazie, questo è quello che poi dobbiamo fare. Non dobbiamo dare amore a chi, chi ci tratta male, insomma, chi ci squalifica, chi non ci mette, non ci porta sul palmo di mano, perché noi dobbiamo dare valore alle persone che ci portano sul palmo di mano, non per captazio benevolenza, non è che dobbiamo andare alle ricerche della captazio benevolenza, ma persone che mi rispettano come persona, cioè il rispetto va come persona, poi io posso sbagliare un comportamento, e allora mi dice guarda, io al tuo posto mi sarei comportato così, cosa, cosa, ma non viene a dimmi se sei un cretino perché hai fatto questo, cretino sarei tu e tutti i cretinini i tuoi bambini, cioè vi ricordate, no? Quando da ragazzi si diceva lui si dava del cretino, al cretino sarei tu e i cretinini i tuoi bambini. E quindi, cioè, dobbiamo dare valore a chi ci dà stima, considerazione, soprattutto a chi ci rispetta. Se una persona non ci dà rispetto, fuori dei coglioni, questo è quello che dobbiamo imparare a fare e vivremo più felici, vivremo più felici mentre vi iscrivete al canale e attivate la campanella, perché così almeno riceverete la notifica dei nuovi video e...